La giunta per l'immunità di Palazzo Madama dice sì agli arresti domiciliari per Giovanni Bilardi, il senatore del nuovo centrodestra coinvolto nell'inchiesta calabrese sulle spese pazze in regione. Ma immediata scoppia la polemica tra il nuovo centrodestra, Forza Italia e i senatori del Movimento 5 Stelle. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Rossella Fucsia, è stata platalmente intimidita, tuona Carlo Giovanardi del nuovo centrodestra e questo è avvenuto davanti ai nostri occhi. Lei aveva dubbi e perplessità ma non appena i suoi colleghi di gruppo se ne sono accorti le hanno chiesto di uscire dall'aula per convincerla a votare a favore dell'arresto. È un fatto davvero gravissimo, ribadisce il senatore Enrico Buemi e domani ci rivolgeremo al presidente del Senato affinché si garantisca la libertà di espressione in giunta. Anche il presidente Dario Stefano è intervenuto con enorme ritardo e questo non deve assolutamente più accadere. La Fucsia è stata minacciata, il via libera all'arresto di Bilardi è passato infatti con nove voti a favore e sette contrari. Se la Fucsia avesse votato no, spiega Lucio Malan di Forza Italia, ci sarebbe stata una parità, cioè 8-8 e l'arresto non sarebbe stato concesso. Quindi quello che è successo stasera davanti ai nostri occhi è inaudito. La senatrice Fucsia, durante i lavori della giunta, era uscita da Laura gridando verso il suo capogruppo «Sapete che c'è? Allora io non voto!» Ma poi, vedendo i giornalisti nel cortile del Santivo alla Sapienza, sede della giunta, aveva abbassato il tono della voce ed era entrata in una stanza vicina per parlare con più libertà con il capogruppo. Per consentire questo confronto i 5 Stelle avevano chiesto una breve sospensione alla giunta dalla durata di 15 minuti. Al termine della pausa dei lavori arriva l'ok all'arresto per il senatore del nuovo centrodestra. «Avevo dubbi», spiega Fucsia, «e ho chiesto spiegazioni anche agli uffici. Ho avuto assicurazioni su alcune mie perplessità e ho deciso di dire sì all'arresto perché la richiesta è arrivata da più di un magistrato e quindi ho pensato che fosse una cosa che aveva senso». Ma è stata una decisione molto sofferta. Nessuno gioisce di situazioni così spiacevoli. Quello che è sbagliato, sottolinea con forza la parlamentare, è l'intero sistema perché non è possibile che tutti i soldi di un gruppo vengano amministrati in questo modo da poche persone. Bisogna tagliare i fondi alla politica. Il sì all'arresto per Bilardi, chiesto dalla relatrice Stefania Pezzopane del PD e votato dalla giunta, dovrà ora passare al vaglio dell'aula. Ma la decisione potrà ancora cambiare anche perché il voto in aula potrà essere segreto. L'ultima volta, infatti, sul caso Azzolini del nuovo centrodestra, la giunta disse sì agli arresti omiciliari, ma poi l'assemblea dei senatori ribaltò il verdetto.